Un contratto da Depp ha firmato, per lasciare Pontoni. Naturalmente Daniele Pontoni è un grandissimo, come è grandissimo Lorenzo Calloni. Eccolo, un lampo di colore. Bellissima gara, si è riuscito a partire subito nei primi 100 metri, ho allenato quei 5 metri che poi mano a mano sono diventati 50-100 fino ad aggiungere un buon vantaggio che mi ha portato alla vittoria. Una dedica per questa bella vittoria? La dedico a tutto il mio team, a Davide Arziani, il mio allenatore, ad Alessandro e Paolo Guerciotti che mi forniscono un ottimo materiale ogni anno. Sarà Casasola è venuta fuori una corsa durissima, tu l'hai fatta tutta l'attacco, una vittoria davvero meritata. Sì, è stata una gara molto dura, sono riuscita ad andare avanti subito dall'inizio, ho fatto molto fatica a staccare le altre, però alla fine sono riuscita a prendere quei metri che mi sono tornati buoni per la fine. Una dedica per questa bella vittoria? Beh, a tutta la squadra, alla mia famiglia e a mio fratello che domani compie gli anni. Sarà un percorso sicuramente indovinato questo di Fugge? Beh, diciamo, c'era molto da spingere, forse non era proprio adattissimo alle mie caratteristiche, ma comunque sono riuscita a cavarmela. Applaudire in tutti i sensi. Vai per lì, vai, grande. Vai, ottimo per lì. Sarà Casasola, prima e leader in classifica. Bravissima, complimenti.